Musica Oggi siamo qui a Montalcino, ci siamo divertiti molto noi dell'Enit, del team Enit E poi comunque con Moreno Argentin, Yuri Chechi, una squadra di lusso Credo che comunque abbiamo fatto bene anche le due prove a cronometro Poi nella volata finale ho fatto terzo e siamo andati bene Sapete tutti che l'obiettivo del Giro E è insomma di invogliare tanta gente a andare con le bici elettriche Purtroppo attraverso la pandemia tanti hanno scoperto il ciclismo A meno questo aspetto, in questa situazione negativa, a meno questo aspetto è venuto fuori Ci sono molte più persone che vanno in bici e questo poi alla fine è quello che ci interessa a tutti noi Poi è chiaro che con le bici elettriche La bici elettrica ti permette anche a gente che non è allenata di poter affrontare percorsi impegnativi, duri Senza grossi problemi Stiamo andando avanti bene, Lenit come sapete hanno 28 sedi nel mondo Tutti i giorni cambiano i personaggi E il mio compito è quello di far divertire questa gente Ciao a tutti Grazie a tutti